Imbranate, timide, ironiche, forti, fuori dagli schemi. C'è solo un posto in cui ogni donna è libera di essere ciò che vuole. È foxlife.it, il nuovo magazine online per le donne del nuovo millennio. Un nuovo mondo all'insegna dell'informazione, del glamour e della ricerca di se stesse. Per le donne che fanno la differenza e sanno cogliere le differenze. E questo mese su foxlife.it, Emma Watson e Ofra Winfrey, le icone femminili del ventunesimo secolo. Alice Venturi e le nuove tendenze della moda, della bellezza e del make-up. E se vuoi conoscere in anteprima le news e i contenuti esclusivi delle tue serie preferite, chatta con noi! Rimarrai sempre aggiornato sulle tue serie del cuore. foxlife.it, il mio modo di essere.